No, quando ho finito i miei tre anni lì, per me è arrivato il momento di cambiare l'aria, ovviamente non in quel momento, sino per serie di motivi che hanno successo prima. Come ho detto prima, sono ringraziatissimo ai tifosi e ai miei compagni, a lui no, quindi non posso parlare di più, adesso dico un'altra volta che sono felice di stare qua, di questa scelta e di una nuova avventura e spero sfruttarla al massimo. C'è una domanda laggiù? Si è molto bene con me e io non ho più rapporto con lui, io voglio stare un minuto più con lui, quindi più chiaro è possibile. Adesso sono ringraziatissimo alla società che ha fatto un sforzo enorme per me e spero dimostrarle che non hanno sbagliato.